Isaac, sono io. Vorrei parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto. Potessi parlare con qualcuno. Qui. Ma tutto a pezzi. Io non ci posso credere. È strano. Una cosa così. È lei? È Nicole? Sì, non sento la sua voce da settimane. A cinque minuti di distanza ancora ascolti quel coso. Deve mancarti davvero. Non rifiuti un incarico sulla Ishimura, ma sei mesi lontano con solo videochiamate... sono duri. Facile dire la cosa sbagliata. Non ti piasimo. Preferirei stare ad ascoltare la mia ragazza, che è in modo blatterare di sicurezza. Persona pisata e mezza salvata, Daniels. Lo dici sempre. Ecco fatto. Un bel rientro politico. Adesso, non ti sui metti su Ages 7. Pensa sei mesi a fissare quella roccia. Per un minatore indipendente, è il paradiso. Ages 7 è uno dei giacimenti più ricchi della C&C. Qualcuno si sistemerà a vita. Ma dove è? Laggiù. Confermo contatto visivo con la USG Shimura. Una meraviglia. La più grande nave trivella della sua classe. E sono già al lavoro. Perché è così buio? Dovremmo vedere le sue luci di marcia. Esatto. Cercherò di trovare la comunicazione. Qualcuno ci starà aspettando. Attenzione all'avvicinamento. Non corro rischi con l'orgoglio della CEC. Nessun rischio, eh? Per questo frugavi nel mio fascicolo prima della partenza. Tracci gli accessi al tuo file. Analista informatica. È parte del lavoro. Era un controllo autorizzato della CEC, Daniels. Lavori con i migliori. Devi stare al gioco. Signore, siamo in comunicazione. USG Shimura. Qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion. Davanti, Shimura. Shimura, mi ricevete? Rispondete. Qui USG Kellion. Hai mai sentito di blackout comunicazioni su una di quelle cose? Mai. Forza. Rispondete al comunicatore. Vediamola. Sembra che il sistema di comunicazione sia rotto. Forse è un codificatore guasto. Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore. Ehi, avrai tempo per stare con Nicole. Sì. Spero di sì. Chang, Johnston, portateci dentro. Megami gravitazionali attivi. Attacco automatico attivato. Perdo il controllo. Megami in avaria. Andiamo fuori rossa. Daniels. Il pilota automatico non si spegne. Cazzo cazzo, siamo troppo veloci. Ci schianteremo contro lo scatto. Ben, mira lo stabilizzatore di emergenza. Là, luce blu. Potremmo rallentarci. Ci sono. Abbassare il discurso di tenere le porte. State tutti bene? Sto bene. Sopravvivrò. Ehi, Johnston. La caviglia. Forse è rotta. Merda. Meglio di un collo rotto. O peggio. Bel lavoro, Isaac. Per fortuna leggo sempre il manuale. Che problemi ha la sala di comando? Quel pilota automatico è una trappola. Aggiungi alle riparazioni. Chang, quali sono i nostri danni? Il sistema di comunicazione e il propulsore di pavordo sono andati. Uno stabilizzatore in fiamme. Il nucleo energetico è un disastro. Potrebbe andare peggio, ma non molto. Cerchiamo aiuto. Johnston, sulla cajon. Ti mandiamo un medico. Gli altri con me. Gli altri con me. E' stato un bello schiavo. Bell'inizio per la missione di riparazione. Fugili a impulsi. Solita procedura, Daniels. Vi registriamo sul ponte di volo. Ehi! Dove sono tutti? Avranno sentito l'atterraggio. Vanno e fiero, cena. Ci hai portati sani e salvi. Johnstone ti sentirebbe. Ma se stasera offri tu... Ci vorrebbe qualcosa per calmare i nervi. A spese della CEC. E di qualcuno in sala comando? No. Nessuno. Beh, non abbiamo distrutto l'insegna. Tanto vale registrarsi. Isak, sintonizza il tuo rig. Isak, sintonizza il tuo rig. Isak Clark. Benvenuto sulla USG Ishimura. Rig sincronizzato. Raccolta moduli cinetici e distasi da... Ufficiale tecnico Jacob Temple. Posizione... Errore. Dipendente non trovato. Non arrivo alla sicurezza. Anche l'ufficiale tecnico. Che succede con la comunicazione? No. mail all'induciale. O Claudio. Non arrivo alla scuola... Non arrivo alla scuola. Non diff僕 di decisioncare. Non arrivo alla scuola. Non arrivo alla scuola... A f IGč. Non arrivo alla scuola. Non arrivo alla scuola. Qualcuno è scappato di corsa Gli addetti e la sicurezza Dove sono tutti? Il registro è vuoto Nessuna tabella turni L'ascensore è senza energia Ah, Cristo Quella console funziona ancora Isaac, rapporto danni Basta scherzare Sentite questo odore Quale odore? Viene dai condotti dell'aria Devi all'energia dell'ascensore Cosa credi che stia facendo? Isaac, prova la console di sicurezza C'è qualcosa sul pavimento Ma è... Isaac, quel rapporto danni Oddio, quel odore Cos'hai trovato, Isaac? Merda Comunicazioni Il pilota Metà della Ishimura in avaria Motori, scafo, trasporti Cosa potrebbe provocare danni simili? Ok, energia ripristinata Ventilazione attiva L'ascensore sarà al top Rilevata, anomalia pericolosa Quarantena attivata Un'altra avaria? No, i sistemi di quarantena sono a posto Un momento Sentito? Sì Sì, sì, lo sento Edmund Calma, Daniels Riattiva quegli ascensori C'è qualcosa qui con noi Attu! Oddio Cristo, che cazzo Certo No No No, ci siamo quasi Via, papì Sì, ma forse Che va, che va Via, via Raider, corri Sì, ma forse 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.